Gli attuali consiglieri comunali 5 Stelle stanno collaborando con voi per la predisposizione della lista? Noi riconosciamo assolutamente il lavoro dei rappresentanti del territorio del Movimento 5 Stelle che sono i nostri consiglieri, che sono un consiglio comunale. In quest'anno hanno fatto un lavoro lungo sul territorio, un lavoro non facile perché non è facile dal niente, da cittadini comuni, comunque trovarsi dentro una macchina comunale e quindi riuscire anche a penetrarla e di questo noi assolutamente abbiamo presa cognizione e visione. I nostri meetup dove formiamo questa lista che è quasi completa sono pubblici, sono aperti a tutti e quindi anche ai nostri consiglieri. Però per ora non sono venuti? Ancora c'è tempo prima di concludere la lista. Il meetup ha fatto un percorso, come ho spiegato forse prima in conferenza, lungo di mesi e mesi di lavoro sul territorio, dove noi incontrando varie realtà che si sono avvicinate al meetup per chiedere aiuto, ma per essere viste dal meetup, per incontrare qualcuno che politicamente potesse anche avere un'analisi, un'occhio diverso. e da qui in cui questa realtà che noi abbiamo incontrato si è creato un rapporto sinergico che in maniera molto naturale, molto fattiva, ha portato a creare un programma.